L'emergenza sanitaria costringe la Prefettura di Prato a rivedere l'organizzazione dei suoi servizi fino a ora svolti in sinergia con l'URP Multiente, una ridefinizione che risponde in seconda battuta anche alle riforme introdotte in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Da lunedì prossimo l'attività di informazione e i servizi saranno interamente trasferiti agli uffici della Prefettura. In particolare, tornano a casa gli sportelli legalizzazione, cittadinanza italiana, immigrazione e patenti guida. Per usufruire di uno di questi servizi è necessario prendere un appuntamento telefonando al numero 0574 4302 45. Solo per le patenti di guida è possibile rivolgersi anche al numero di telefono 0574 4302 84, solo il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 11. Sul sito internet della Prefettura sono disponibili le procedure per ciascuna pratica. È sufficiente collegarsi alla home page, entrare nella sezione interessata attraverso l'area servizi ai cittadini e da qui cliccare sul link Come fare per.